Lucia, guardami negli occhi, pensa un numero, è il numero 3, chiamiamo il mago, signori Mago Domini! Buonasera, grazie per l'invito, è un piacere. Cosa ci proponi? Adesso, oggi controllerò la mente di ognuno di voi. A me sarà difficile. Antonio, mi raccomando, non pensare le cose strane. Possiamo fare un esperimento, qui vedo un dado e una tazza. Puoi controllare la tazza e il dado? È tutto ok? Si può vedere attraverso? No. Il dado, puoi controllarlo per favore? È un dado normale, 1, 4, 3, 5, 6. Normalissimo. Le 6 facce, insomma. Adesso, sì, proverò con Antonio un esperimento. Lui sceglierà una parte del dado, cioè qualsiasi, la metterà a faccia in alto e subito dopo coprirà con la tazza. Per non far vedere a nessuno, nemmeno il pubblico a casa vedrà il numero. Solo tu lo vedrai. Io mi giro. Va bene. Sei pronto? Mi giro. Attenzione. Vai. Vado. Fatto. Attenzione. Per caso è il numero 3. Fai vedere a tutti se il numero 3. Tu non devi suggerire, però. Non ho detto niente io. Proviamo? Fai vedere in camera il numero. No, incredibile. È bravissimo. Adesso proviamo ancora una volta, però, con Lucia adesso. Dai, dai, dai. Lucia, sei pronta? Hai capito cosa devi fare? Sì, ho capito tutto. Io non guardo, mi giro. Ok. Vai. Tu non guardi. Questo non lo vedo. Posso? Fatto. Ok. Attenzione. Guardami un attimo. Numero 6, per caso. Lentamente, non fate. Ha sbagliato. Lentamente, lentamente. 6 hai messo davvero. Lentamente. Il numero è? 6. Fai vedere in camera. Hai visto? Non tutto dai numeri. Non è possibile, però. Questo si chiama controllare la mente. Diciamo, in qualche movimento vi ho manipolato a far mettere quel numero, con i movimenti delle mani. Voi non ne siete accorti? Proviamo ancora una volta? Sì, voglio provare questa volta. Ancora una volta. Mi giro, eh? Non guardo assolutamente. Posso? Eh, questa volta è difficile, eh? Attenzione. E il numero? 4. Lentamente, alza la tazzina. Ma siete d'accordo tutte e due? Ma che ne so, no. Alza la tazzina, pieno piano. Vai. Il quattro, eccolo qui, ma non impossibile. Grazie. Facciamo un applauso, facciamo un applauso, anche voi da casa, fatevi un applauso perché... Siamo arrivati veramente entusiasmati, essendo poi io ho un grande mente, come fa lui ad entrare... Possiamo dire a casa che non ci siamo messi d'accordo, potete anche giurare, posso farlo con qualsiasi pubblico. Lo giuro su tutti i capelli che ha... No, che non hai tu, quindi non giurare, stai zitto. Questo è come manipolare la mente. Grazie. Complimenti. Pensa un numero, pensa un numero, pensa un numero, pensato? Sì. Non mi viene, non mi viene. Va bene, allora salutiamo il mago Domin. Grazie. Gli diamo ovviamente appuntamento al 26 novembre, allo spettacolo Auditorum Baglioni. Non ci resta che ridere. Ci sarò anch'io, come... Adesso, Auditorum. Alle ore 20, Auditorum di Andrea Baglioni, giusto? Corretto? Esatto, quindi amici non mancate a questo grande appuntamento per vedere dal vivo queste magie del mago Domin. Grazie.